La mia spina santa è frutto del pathos e non va a Roma quel venerdì, ogni anno. E in internet ho visto il venerdì santo della Via Crucis dei Papa Francesco nel 2015 corrente anno. Sa, Santo Padre, cosa penso di quella figura in porpora che la costeggia durante le preghiere? Una ennesima Agnese Scrofadei che stupra la Santa Chiesa dal Canada con tutta la stirpe di sofferenza di Torondo, con ennesse perestroiche eccetera eccetera. Lo sa da cosa è frutto questo input? Da un quadro di Ligabue, pittore, nuovo cantante che sfornano a Tinchitei. Ligabue il pittore che durante la fragilazione di Cristo, ovvero Via Crucis, godeva come una porca dèi, una scrofa. Forse perché voleva precipitare come una meteorite in Grecia però. E' come la malappunta, la malaguarda durante le vostre preghiere, che è già turba a sapere questo. Forse le posse dell'Opus Dei sanno che continuano a sgarrare. Ieri c'è che si scoppi in imine, ma ne so sposti ben eretti. Che parteno se non è annesse Scrofadei c'è a passare lo ghiaccio a sa porca.